buongiorno mi trovo qui nella comunità aldeia sama della regione alto san marco che è parte dell'area missionaria di bacaraima la nostra missione è fatta molto di accompagnamento alla lotta delle comunità indigene non è solo un servizio pastorale ma anche un servizio sociale una lotta che dura da molti secoli e che purtroppo macchiata di sangue ancora oggi è molto dura lotta per la terra lotta per la giustizia per il rispetto dell'ambiente in questa terra amazzonica il nostro servizio è conoscere integrare accompagnare la vita delle comunità indigene la loro storia la loro cultura e anche appoggiare la questa lotta che è un po la lotta di davide contro golia ma è fatta di tanti piccoli gesti riunioni manifestazioni incontri culturali incontri di riflessione per tutto questo come possiamo appoggiamo anche da un punto di vista economico perché possano avere la possibilità di dire la loro voce di far sentire la loro voce allora un grazie infinite a chi ci vorrà aiutare chi vorrà accompagnare il cammino di questi popoli grazie a tutti